Buongiorno, questa è la segna stampa di questa mattina 20 febbraio sui giornali, tranne il Corriere della Sera che mette un'apertura con una foto, la strage che è avvenuta a pochi chilometri da Francoforte non è tenuta in grande considerazione, non per altro, ma semplicemente perché è avvenuta in un'ora troppo tarda per la chiusura dei giornali. Ovviamente oggi tutte le aperture dei siti invece riguardano questa strage in cui sono morte 9 persone, tra cui probabilmente i due attentatori. Per i siti è già certo quello che è successo e ci sarebbe una strage di tipo razzista, anche se nel pezzo del sito di Repubblica, quindi del sito che è più aggiornato su queste vicende, si dice che ci sarebbero potuti anche essere regolamenti dei conti perché nelle settimane scorse c'è stata una sparatoria sempre in un bar diciamo di arabi e musulmani per regolamenti di conti. Ma insomma la pista è solo una anche perché l'attentatore morto, suicida secondo alcuni, trovato a casa sua sarebbe un estremista di destra con addirittura un videomessaggio. Su queste vicende come insegna il passato bisogna sempre aspettare poi che si depositi la polvere. Io mi ricordo una vecchia cosa di attacchi razziste a una ragazza italiana che poi tali non furono, anche se qui devo dire che tutti quanti i segnali porterebbero in quella direzione. 11 morti, 9 in questo bar in cui si fumava il narghile, insomma mi sembra una specie di grande disastro in mezzo alla, si pensava, pacifica Germania. Andiamo poi alle questioni di casa nostra su cui i giornali praticamente tutti sono pieni e riguardano la politica, soprattutto Renzi che monta una grande attesa per quello che sarebbe successo ieri sera riguardo al governo. Va a porta a porta e nel governo non succede nulla. Il titolo più forte è quello del Corriere della Sera, Renzi all'attacco. La cosa straordinaria è che Repubblica lo ignora. È l'unico forse giornale in Italia che ignora la uscita che ieri aveva pompato, caricato di attese e magnificato ieri Renzi sulle sue interviste a porta a porta. Però gli altri giornali tutti ci credono e commentano. Cosa è successo? Ci volevano buttare fuori, dice Renzi, cosa non inedita. Pronto a sfiduciare Bonafede, cosa che ribadisce anche questa non inedita. Voglio l'elezione diretta del capo del governo, il sindaco d'Italia. Non è inedita, mai detta. Era molto che non lo diceva Renzi. Quindi l'idea di questo sindaco d'Italia, del capo del governo eletto direttamente dal popolo, è forse la notizia più interessante di ieri rispetto anche all'altra che vervede l'abolizione, secondo lui, del reddito di cittadinanza. Come commenta il Corriere della Sera, di cui non si riesce bene a capire in che posizione prenda. Forse fa parte ormai del doppio pesismo del Corriere della Sera o del mielismo che gli è ancora, come possiamo dire, gli è ancora proprio franco. Offensiva politica, quella di Renzi, fine a se stessa. Renzi all'aria del piromane divertito e anche un po' preoccupato dal fuoco che ha piccato. Insomma, non si riesce a ben capire. Il fatto considera quello di Renzi l'ultimo bluff. Addirittura titola Chiamate l'ambulanza. Il giornale non è male come titolo obiettivamente. Il giornale è soltanto parole. Renzi tiene in piedi Conte, che mi sembra che è la posizione del giornale, con Minzolini e con tutti gli altri commentatori, che di fatto Renzi parla, parla, fa casino, a me monta la panna, eccetera, ma alla fine Conte resta in piedi grazie a Renzi e ai voti di Renzi e anzi il punto fondamentale è che potrebbero in realtà farlo fuori con questi, come dicevamo ieri, non responsabili, ma quelli che serviranno a integrare questo governo, che tutti i giornali oggi raccontano, pensate un po' voi, guidati da Romani. Renzi strappo rinviato. Il flop che rispetto agli annunci è la titolo del messaggero, che quindi è nella stessa linea del giornale, cioè è soltanto parole, poco da fare. Governo Renzi apre alla destra. È un titolo un po' assurdo della stampa, se mi posso permettere, serve un esecutivo istituzionale secondo l'interpretazione della stampa, quindi come vedete c'è un panorama di giornali diciamo molto complesso. Feltri sul Libero, il direttore del Libero, invece dice quando anche Peppino, cioè Conte, si togliesse dalle balle, il modo di scrivere di Feltri sempre favoloso, il Quirinale sconciderebbe qualche trucco per inventarsi un altro governo. Insomma, a votare non si va. E questo lo fa in risposta, diciamo, alle ipotesi della Meloni che diceva se cade Conte si va a votare. Feltri dice, ma figuratevi un po' voi. La cosa straordinaria è che nel panorama di tutti i giornali che cadono nella trappa di Renzi, che oggi sarà compiaciuto nel vedere tutti i giornali che parlano di lui, obiettivamente come scrivono a pagina 3 o 4 di Repubblica, no di Repubblica scusatemi, sì, è pagina 8, no non è Repubblica, è del Corriere da qualche parte, ma perché ci rompe tanto le scatole uno che ha il 3% dei voti. Mi sembra che sia un retroscena riguardo a Renzi raccontato da qualche giornale. Però, insomma, il punto fondamentale è che il giornale che veramente, davvero ignora Renzi oggi in maniera, come possiamo dire, clamorosa, esibita e Repubblica, perché mentre tutti i giornali fanno le prime pagine su Renzi e le dichiarazioni di ieri e cadono nella trappola di Renzi, Repubblica non ci cade e lo prende a pagina 7-8, tra l'altro mettendo nella pagina di sinistra, che è la pagina sfigata dei giornali, cosiddetta, e quella di destra e quella di rispetto, quindi a sinistra la cronaca di quello che ha detto Renzi, a destra un'intervista al ministro Fraccaro del Movimento 5 Stelle che dice, aspettate che ve la devo dire, cosa dice? Troppe! Troppe chiacchiere, troppe chiacchiere, lo bolla come un chiaccherone, anche perché Repubblica apre su una notizia sulla quale punta molto, anche perché a scriverla come sempre è l'ottimo Goffredo De Marchis, e cioè sulle autostrade il rischio è grosso, perché secondo De Marchis ha approvato ieri il decreto mille proroghe, che come ci spiega il Sole 24 Ore è passato da 45 articoli a 75 articoli, 508 comma, insomma una specie di norma gigante in cui c'è dentro tutto, che vi posso dire, i medici adesso potranno lavorare fino a 70 anni, le proroghe, l'ANAS si prenderà le autostrade, se le autostrade gli si toglie la concessione, dentro le proroghe c'è tutto, tra l'altro forse una cosa buona perché sarebbe stata rimandata a sei per sei mesi quell'orribile riforma di Bonafede sui Wisterblower, cioè gli spioni all'interno dell'SRL. Ma alla fine, arriviamo al dunque, nel mille proroghe c'è la possibilità sostanzialmente di togliere l'autostrada e la loro concessione senza pagare i famosi 23 miliardi, ma soltanto restituendogli una componente pari a 7 miliardi. Però, dice De Marchis, che la De Micheli, Ministro, Conte, Presidente del Consiglio e tutto il governo hanno chiesto alle autostrade di rivedere la concessione, gli Benetton dicono di no e allora a questo punto anche i più fedeli, anche i più amici di autostrade li manderanno a fanculo e diranno sapete che c'è di nuovo ciao concessione, però i Benetton su che cosa punterebbero? Sulla caduta di Conte 2. Questo dice Goffredo De Marchis. Vacci a credere se veramente il Conte 2 salta. Se non dovesse saltare i Benetton Secondo Repubblica sarebbero fottuti. Avrebbero risposto infatti picche alla offerta del governo. Riguardo tutte le cosette, diciamo, un po' di potere, il pezzo del fatto di oggi si attacca descalzi. Le 470 nomine, dovete sapere, ve lo dico io come informazione giornalistica, sono appese al rinnovo della nomina considerata più importante dell'amministratore delegato dell'ENI, descalzi. Pensate un po' voi, presidente dell'ENI e la Marcegaglia, signora che prende un milione per... vabbè, non mi fate querellare. Marcegaglia, un milione prende, quanto prende? 800.000, 900.000? Vediamo, andate nel bilancio a vedere quanto prende la Marcegaglia. Comunque, la cosa straordinaria è che descalzi ha, secondo il giornale di Travaglio, 10 buoni motivi per non venire riammesso. Uno di questi è la presunta tangente da un miliardo ai politici nigeriani. Io di tangenti di un miliardo di ENI, di Finmeccanica, di tutti questi, ne ho viste tante sui giornali e sul Fatto Quotidiano, tutti assolti, prima distruggere le aziende e le carriere, poi vengono assolte, ma lasciamo perdere. Punto fondamentale che vi segnalo è che se il fatto attacca descalzi e non vuole descalzi amministratore delegato dell'ENI, questo è un segnale a Conte e a Di Maio, i due amichetti del Fatto Quotidiano, che stanno facendo casino sulle nomine. Non è Renzi che fa casino sulle nomine, non è, come si chiama, Conte che fa casino sulle nomine, non è Zingaretti, lo sono anche loro, ma sicuramente con questo pezzo straordinario out of the blue si capisce cosa sta succedendo là, nel dietro bottega di Palazzo Chigi. Ragazzi, ieri vi avevo detto che il Daily Mail diceva il nuovo programma contro l'immigrazione diciamo incontrollata dell'Inghilterra, oggi i giornali, tutti quanti che raccontano quella cosa, c'era scritta ieri sui giornali, ma comunque la raccontano oggi con i commentatori moralisti, Severnini è finita l'Inghilterra, ma il più ridicolo di tutti è quel ridicolo Francesco Merlo. Finisce l'Inghilterra laboratorio di libertà e della civiltà occidentale! Toc toc! Scusami! Merlo, ma tu pensavi che fosse ancora il laboratorio di libertà e della civiltà occidentale quando governava la Thatcher, per esempio? No, perché dici che sono 70 anni che è sta cazzo di libertà occidentale. Questi pensano di conoscere l'Inghilterra come le loro tasche, il paese più pragmatico del mondo, quando vedranno che non avranno camerieri perché non arrivano camerieri sempre che sia vera la cosa di Johnson, imprenderanno i camerieri! Questi sono dei... è incredibile l'incapacità dei nostri giornalisti di avere un'opinione fuori da una specie di binario già scritto, io già lo sapevo ieri che cazzo avrebbero scritto Merlo, Severnini, Bavarapava, Fazio, su questa roba qua. Ma comunque è finita, è finita l'Inghilterra, è finito il laboratorio di libertà, sono finiti i grandi successi e lei che dice, io negli anni 50 sono venuto qua come cameriera e oggi sono diventata imprenditrice, oggi non sarebbe più possibile. Tutte cazzate! Nel frattempo Daily Mail che cosa ci dice? Che l'Inghilterra che doveva morire, secondo gli stessi osservatori, grazie alla Brexit, beh, insomma, ieri l'ufficio di statistica inglese Daily Mail dice che sono aumentati i prezzi delle case in Inghilterra, 2,2%, non succediva da due anni, complimenti. Nel frattempo, fantastico, Felice Manti oggi sul giornale che ci fa, ci racconta di un'altra statistica. Sapete che sta succedendo col coronavirus? Abbiamo fermato un po' di fabbriche, un po' di commercio mondiale ed è crollato il gas Serra CO2, insomma, l'unica, il contagio ecologico della storia. Ecco, l'effetto collaterale del coronavirus, sì, muoiono 2-3 mila persone, oggi dicono che il picco sta diminuendo del contagio, ma la cosa è sicura, grazie al coronavirus, i Greta e i Gretini dovrebbero essere contenti perché abbiamo chiuso le fabbriche e non facciamo gas Serra. E' questo che vogliamo? Un mondo senza fabbriche e senza gas Serra? Perfetto, andiamo avanti così. Altre cose? Beh, oggi devo dire che il foglio mi sono molto divertito per come ha trattato Cerno, perché non me lo ricordavo. Cerno passa con Renzi dal PD e ricorda che è lo stesso Cerno che era passato da Renzi al PD, poi dal PD aveva votato no TAV con il Movimento 5 Stelle perché lui non voleva la TAV e poi in realtà ora passa col partito che è più TAV di tutti, c'è quello di Renzi. Straordinario. Così come Meotti oggi vi ricorda sul foglio, un pezzo per me favoroso, anche questo perché è uno di quei lati che gli altri giornali non colgono, Macron contro il separatismo islamista, come lo chiama lui. In alcune città francesi sta succedendo un casino e Macron durissimo. Voglio vedere i pezzi di Merlo, voglio vedere i pezzi di Severnini contro Macron che non vuole che ci siano finanziamenti stranieri alle loro moschee, che non vuole che gli Man siano nominati da paesi stranieri. Insomma, il sanio nazionalismo francese di Macron piace un po' più di quello di Boris Johnson. Vedremo. Sardine, flop di Napoli, tutti quanti ormai hanno capito e purtroppo anche noi per tempo che le farbine erano niente insieme al cerchietto, anche il fatto oggi dice, cioè abbiamo un po' provato a corteggiarle, sardine e flop, qual è l'unico giornale che titola sulle sardine che vanno all'ilva di Taranto, dove non beccano un cazzo di nessuno, qual è? Repubblica, il fenomeno che ha sempre creduto nelle sardine. Noi fra un po', io ve l'avevo detto in tempi non sospetti, vi prego, quando riempivano le piazze, ricordatevi, riprendetevi a avere quelle zuppe, questi inutili cerchietti sui quali questi cazzoni che hanno caduto e hanno creduto che avessero fatto qualche cosa, non hanno fatto nulla. E se è stato soltanto uno straordinario, geniale, escamotage del PD e di Boracini di andare due volte in televisione, uno con i loro, la seconda con le sardine, con l'unico obiettivo di dire quanti erano ficchi, quanti erano civili, quanti erano popolari, quanti erano società normale, questi ragazzi, che ragazzi non sono. C'è un cerchietto, tre amiche, una si chiama Jasmine, io la trovo fantastica, e una bella serie di ex girotondini con i capelli bianchi. Ubi frena sull'offerta di Intesa San Paolo e l'ultima notizia che riguarda la finanza, Massia non ci sta e ha dato mandato, come dice l'MF, a Credit Suisse per verificare se conviene alla banca Ubi di essere acquistata dalla banca di Messina. Direi che per oggi è tutto, un grande saluto a tutti quanti voi, ciao ciao!